Vento forte e mare grosso stanno interessando la nostra regione in questi giorni. La burrasca ha infatti fatto scattare per oggi fino a domani mattina un avviso meteorologico relativamente a Levante e allo Spezzino. Sono state registrate questo pomeriggio mareggiate sul centro ponente, molto intense invece nel Levante. Per domani sono previste ancora mareggiate per onda lunga su Levante con moto ondoso in lenta scaduta. Per quanto riguarda i venti oggi, fino alle ore centrali, hanno soffiato da sud-ovest in rotazione da ovest fino a burrasca sul ponente Ligure e sui rilievi alle spalle di Genova e della Spezia. Domani, fino al mattino, venti da nord-ovest con rafiche di burrasca forte su Genova e localmente sullo Spezzino, in attenuazione dal pomeriggio. Questa mattina si sono registrate rafiche a 139,3 km orari a Casoni di Suvero, a 108,4 km orari a Fontana Fresca e 94,7 km orari a Tanadorso. Da segnalare anche gli 88 km orari segnati dall'anemometro di Imperia Osservatorio Meteo Sismico.